Il gruppo Lisfondazione lavora con Cariplo sul progetto ricerca a migliorare la produzione di varietà di riso anche per migliorare la varietà di qualche cereale. Lavoriamo per due cose, prima di facilitare la collaborazione tra scientifici francesi e italiani e anche tra loro partner, perché di solito le ricerche fanno da solo. L'importante per noi, anche per Cariplo, è implicare gli altri scientifici, soprattutto scientifici in paesi in via sviluppo, per fare la ricerca assieme. Quella è la prima. Il secondo, anche per lavorare sulla tematica di riso e cereale, perché la maggioranza di gente hanno questo cereale come un proprio source del loro cibo quotidiano. Per cui per noi è una tematica di ricerca molto importante.